Un'operazione antidroga è stata condotta nella giornata di ieri a Uruna e dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro. I militari del reparto Squadriglia insieme ai carabinieri della locale stazione hanno individuato nell'agro del paese una piantagione di cannabis e arrestato due giovani. I manette con l'accusa di coltivazione aggravata di sostanze stupefacenti sono finiti Luigi Bardellino, 31 anni, e Giovanni Mariana, di 38. I due sono stati fermati al termine di un'attività di osservazione durata oltre due mesi, mentre in località Iscra erano intenti a concimare le 1.310 piantine di marijuana dall'altezza media di un metro. I militari, dopo aver bloccato i due coltivatori, hanno proceduto al sequestro delle piantine e del peso complessivo di 100 kg, al fine di determinarne la qualità e il valore. I carabinieri inoltre hanno rinvenuto 42 bottiglie di plastica da un litro e mezzo contenenti fertilizzante. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere Nurese di Badecaros e messi a disposizione dall'autorità giudiziaria.